Da domenica scorsa diversi quartieri di Fano e delle città limitrofe sono stati colpiti da blackout, provocando disagi, in particolare nelle abitazioni con bambini e anziani. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per segnalare la mancanza di corrente e per avere informazioni. Anche i telefoni della protezione civile sono stati incandescenti. Le squadre dei tecnici Enel invece sono al lavoro ormai da diversi giorni per cercare di risolvere i problemi ancora in atto in alcune centraline e isolatori dell'alta tensione. La causa principale, come già è noto, è la salsedine che si è depositata in gran quantità durante i giorni di forte vento e mare mosso. Ieri sera, poi dopo ore di assenza, intorno alle 11.15, è tornata la corrente a Finile di Fano, mentre alcune zone di Carignano sono rimaste al buio fino a questa mattina. Per quanto tempo siete rimasti senza energia elettrica? 40 ore senza luce. E come avete fatto? Con la candela. Comunque c'è una lampadina quella grossa che quando vi è luce ci... Sì, sarà luce quella e il letto è scuro. A chi ora è tornata questa mattina la corrente? Le nove. Appena che voi avete telefonato che venivi su. Io sono su e vi direi, ma mi compagno qua su. Avete dei parenti qua vicino che vi hanno aiutati oppure eravate completamente soli? Io li e io mi muoio. I fiori in distante, una me la montavete, la ravilla grande, nessuno. Ve la siete cavati da soli? Da soli. Però fortuna che ho quelle lampadine che quando vi è la luce mi fa la luce. Quella due neo, fortuna quella, illuminava tutta la casa, capito? Lei come ha fatto in questi giorni? Eh, come ho fatto io, non abitiamo proprio qui, andiamo a dormire laggiù perché abbiamo una casa più colliente, più comoda, più riscaldata perché qui non abbiamo i riscaldamenti, niente. Però qua hai i congelatori? Eh, c'è i congelatori perché al giorno stiamo qua su. Però mi raccontava che ha portato via insomma tutti i generi alimentari? Un po' di carne. Un po' di carne. Quindi è riuscita a salvare questi prodotti? Speriamo, speriamo. Anche lei signora è stata al buio per tante ore, ecco, che cosa ha utilizzato? Le candele? No, no, niente, sempre lo scuro. Sempre lo scuro? Sì. Ecco, e invece quello che ha in mano l'ha utilizzato comunque per muoversi dentro casa? No, da sopra, facciamo il bagno. Ah, ecco. Allo scuro, carino, da sopra c'è 60 metri l'appartamento, grande. E mica si, come neve, si cascava. Invece il riscaldamento vi è sempre funzionato? Sì, sì, no, ma che quello, perché c'era la stufa elettrica. Quindi al buio e al freddo? Sì, no, ma c'era i panci, le tovaglie, le cose, le coperte, i piumoni, fino a me, si sta. E' adeguata? Sì, sì. Così mia, guarda. Perché non si ricorda più quanti erano piccolini. Una volta non c'era niente? Una luma passa al petrolio. Abbiamo visto qualcuno, gli altri. Problemi si sono verificati anche a Fano, come in via 4 Novembre, via 28 Agosto, 2 Giugno, via Castelfidardo e via Fosso Ardiatine, dove è mancata anche oggi la corrente elettrica fino alle 15.30 circa, provocando disagi sia nelle abitazioni sia negli esercizi commerciali. Siete riusciti a contattare l'Enel? Stamattina mio fratello sì, dove gli hanno detto che fino alle 14.30 non sarà ripristinata la luce. Voi invece come vi siete organizzati? Ci siamo organizzati i tempi di una volta, quindi facciamo tutto carta e penna, conti manuali, abbiamo il registro al posto della cassa. Da quanto tempo siete senza energie? Mi è stato detto da questa mattina alle 5. Quindi lei si è accorto quando è venuto ad aprire il negozio? Sì, certo. Non ne sapevo niente. Vi sta creando dei problemi? Beh, al momento è chiaro, certo che ce li sta creando, perché intanto si vede tutto spento, quindi c'è anche magari chi pensa che siamo chiusi. Poi chiaramente non possiamo utilizzare il computer e quindi non posso andare avanti con il lavoro. Nemmeno il registratore di cassa? Nemmeno il registratore di cassa, infatti in caso di vendite devo fare con il registro cartaceo. Se loro ci avessero avvisato, noi almeno ci organizzavamo, magari o stavi chiuso, comunque avvisavi i clienti, oppure c'è anche brioche, queste cose qui, uno evitava di prenderle. Quindi stamattina... Gran perdita e basta. Stamattina niente caffè, niente cappuccini? Niente di niente. Arrivati alle 6 e stiamo qui, non fa niente.